il bambino è difficile tra l'altro è difficile come un bambino un conto io che vabbè esco c'è un bambino e tutto però l'ho studiato con una lingua in più l'italiano sapevo già che venivo qua che c'è mio padre qua tutto ma comunque lo serve una lingua straniera non è che in casa imparano una lingua scuola un'altra padre madre un altro eh vabbè c'è la maranta cioè in poche parole paura di far diventare scemo mio figlio sì io qua dovevo prendere una ragazza prima sono arrivato fino qua e poi non è uscita il telefono ce l'aveva sempre spento con it sempre? sì 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 sì